Salve a tutti e benvenuti qui su Levelstep. Oggi un bel tutorial sul sampler. Spero di pronunciarlo bene perché lo dirò spesso in questo video. Anzi andiamo a vedere perché l'avevo fatto prima. Sampler. Sampler. USA però UK. Sampler. Comunque non siamo qui a fare lezioni d'inglese ma siamo qui per vedere come si usa, soprattutto cos'è questo sampler. Una cosa importantissima, visto che il video sarà sicuramente lunghissimo, ci sono qua i capitoli. Quindi potete saltare velocemente. Anche in descrizione ci sono tutti i minuti, quindi c'è tutto il minutaggio di ogni cosa appunto del sampler. Ah un'altra cosa, prima che magari vi mettete a cercare, diciamo ma perché da me non c'è questo sampler? Perché praticamente è disponibile solo nelle edizioni su IT. Invece nelle edizioni light, intro e standard purtroppo non c'è. Se avete la versione quindi su IT lo troverete qui su Instruments e poi Sampler. Eccolo qua. Io lo prendo e lo carico subito qua. Oppure direttamente posso prendere un campione, ad esempio questo, lo metto direttamente nella traccia MIDI. Lui in automatico però mi va a caricare il simpler. Simpler è un altro campionatore, però è il fratello minore del sampler perché permette di gestire solo un campione. Vedete io ho messo solo questo clap e non posso caricare altri suoni perché se carico questo va a sostituire quello di prima. Posso sì splittarlo, come abbiamo visto nel tutorial dei vocal chops, però è sempre un unico file. Invece se io faccio clic destro, da qui posso passare poi al sampler. Il sampler permette quindi di, cliccando poi su Zone, di caricare tanti campioni. Quindi sfruttando così il multi sampling, il multi campionamento. Ad esempio io voglio registrare uno strumento acustico, mettiamo, facciamo un esempio, una chitarra, un pianoforte, quello che è. E io vado a registrare non soltanto una nota. Vengono quindi registrati su più tonalità, per garantire quindi una fedeltà sonora costante su tutta appunto l'estensione della tastiera. È possibile però campionare qualsiasi tipo di cose. Un effetto, lo posso appunto mettere su diverse note, lo posso suonare cinque tipi di campioni su tutte le mie note, oppure su un tipo di... Posso fare ad esempio così, guardate. Vi faccio vedere che posso stringere questo range. No, da qui. Posso da qui, da questa nota a questa nota, suona questo campione. Poi posso caricare altri campioni e fare... Lo trascino qui, ovviamente. E posso fare, ok, da qui a qui però va a suonare questo. Ovviamente non sono qui per spiegarvi come si crea una libreria, quello poi magari lo faremo dopo. Praticamente è un gestore di campioni. Permette di gestire tutti i campioni che volete. Ovviamente devono essere in formato WAV, MP3 e AIF. Poi non so se ci sono altri formati. Ad esempio questo è AIF, AIF. Vedete, lo posso mettere lo stesso. Questi sono i formati più classici, più comuni. Andiamo a vedere un'altra cosa. Qui in questa pagina ci sono tutti i formati che permette quindi di leggere il sampler. Eccolo qua. Supporta i seguenti formati. Gigastudio, EXS, che è un altro formato di librerie. Soundfont, Contat, ecco anche le librerie di Contat. Non tutte. Poi qua c'è scritto versione 4.2.1 precedente. Puoi notare che live e versione successiva la funzione di importazione non è disponibile per i campioni della serie S. Insomma, vi lascio questo qui così almeno potete vedere meglio tutti i formati. Qua c'è un sito per scaricare i multisample. Però non so se è pagamento, ti devi comunque registrare. Se ad esempio voglio un basso. Tutti i tipi di bassi. Qua vedete cosa c'è. Vi serve un basso registrato da, che ne so, da un sintetizzatore particolare. Ecco qua potete scaricare. Vedete che poi ci sono le note C1, F1. Poi c'è un'altra cosa. Se volete appunto approfondire questa cosa del multicampionamento sul manuale di Ableton, vi spiega bene questa cosa. Adesso ve la faccio vedere. Perfetto. Qui c'è tutto ovviamente per quanto riguarda il sampler. E se io vado ovviamente, qui chiudi un attimo, vado a zoomare. Perfetto. Qua vi spiega tutto il multicampionamento. Quindi prima di procedere introduciamo il concetto di multicampionamento. Questa tecnica usata per catturare accuratamente la complessità degli strumenti che producono cambiamenti timbrici, dinamici. Quindi vi ho spiegato tutta sta cosa, tutto sto pippone per spiegarvi un po' di cose sul sampler, tutto il multicampionamento, ma ci tenevo a farvi sapere questa cosa. Questo quindi potrebbe essere una buona alternativa al contact. Attenzione, lo so che però il sampler è ottimo. Se volete creare voi, gestire voi i campioni, andare a creare qualcosa da zero, ma se volete delle librerie di quelle ottime, di quelle fatte bene, allora il contact è la scelta migliore. Non ci sono qui librerie di quelle proprio, sai, che fanno impazzire. Se volete, come me, ad esempio, creare tanti campioni che magari registro io, perché poi posso registrare anche i campioni direttamente da Ableton. Quindi prendo, come ne so, il Serum o un plugin particolare e mi registro le diverse note. E poi le vado a importare qui dentro. E niente, direi che vi ho spiegato tutto. Possiamo iniziare finalmente a vedere da vicino questo sampler, tutte le varie funzioni. Andiamo a chiudere, perfetto, così iniziamo da zero. Prendiamo su Instruments, Sampler, perfetto. Ora andiamo a mettere qui dentro un campione. Io prendo una voce, eccola qua. Questa voce che appunto posso riprodurre ora con la mia tastiera MIDI. Perché non si sente? Ah, certo che non si sente, perché l'inizio non è proprio un inizio qua. Perfetto. Abbiamo quindi queste schede, Zone, per gestire tutti i layer, per andare quindi a decidere in quale note far suonare un determinato campione, con una velocity poi diversa. Andiamo a vedere tutte queste cose. Sample, dove possiamo modificare tutto il nostro campione, con un volume più alto, con un pitch diverso. Poi possiamo impostare diversi tipi di loop, e altre cose che adesso vi spiegherò piano piano. Poi abbiamo qui una scheda per quanto riguarda il pitch envelope, e quella degli oscillatori. Questo ovviamente utilizza le sintesi FM e quella AM, per andare quindi a fare delle modulazioni sul campione. Poi un pitch envelope, poi tutti i filtri, e anche ovviamente alcune impostazioni globali. E poi le modulazioni di tutto quanto, e poi una sezione MIDI, dove possiamo ad esempio dirgli guarda, con il pitch band vai a controllare il parametro, ad esempio il pitch, oppure vai a controllare l'LFO 1, la velocità, eccetera, eccetera. Ovviamente questo, 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 vanno a modificare non solo questo campione che ho importato, ma tutti i campioni che poi vado a mettere qui dentro. Quindi fa una cosa globale queste impostazioni. Se io decido di cambiare il traspose qui, più 9 semitoni, non lo fa solo sul campione che ho selezionato, ma su tutti. Ora iniziamo a vedere appunto, le varie funzioni della scheda sample. Qui abbiamo un reverse, quindi possiamo ovviamente mettere in reverse questo campione. Inizia dalla fine. Poi qua ho uno snap, praticamente questo mi permette di agganciarmi sullo zero crossing, praticamente. Mi permette di spostarmi, evitando così poi i classici click. Vedete che io appunto quando mi sposto adesso, mi posso spostare in piena libertà. Se invece metto snap, lui si preoccuperà. Vedete che ci sposto così a scatti, perché va a trovare il punto zero. Ovviamente questo non ve l'ho detto, ma posso spostare quindi l'inizio e da qui posso spostare la fine. In realtà posso anche fare così. Prendo la fine e decido, dico guarda, solo questo mi deve riprodurre, non tutto. Così se io faccio una pressione più lunga della mia nota, così, vedete? Mi riproduce solo questa, non continua tutta. Ovviamente l'attacco, c'è il punto iniziale e il punto finale, lo posso anche gestire da qui. Vedete? Oh sì. Se attivo ovviamente snap, sarà a scatti. Si fa fatica a spostare così. Questo invece è un selettore di sample, cioè ad esempio se io vado a mettere più campioni, per prendere un'altra voce, la metto qui, adesso vedete che posso decidere di andare a modificare il primo, quello di prima, e poi il secondo, quello che ho appena caricato. Senza andare ogni volta a cliccare qui, spostarmi, posso direttamente vedere qui, ah ok, questo è quello, il campione do diesis, ok, vado a modificare questo. Poi da qui posso anche sostituire il campione, ad esempio, metto su questo, sul secondo, e con questo posso cambiare. No, volevo questo io, doppio clic, poi ovviamente esco dalla modalità sostituzione, e adesso vedete che ho cambiato velocemente il campione, senza andare a fare drag and drop. Ma questo è comodo anche perché, se io poi mi trovo su AudioFX, quindi non mi trovo più nella mia libreria con tutti i vocal, io velocemente cliccando qui, mi riporta nel percorso di dove ho preso questa voce, ed ecco che appunto ho di nuovo tutti i tuoi, ah c'è anche il ritorno di nuovo vocal, vedete? Qui ovviamente potete zoomare all'interno, se abbasso così col mouse tenendo premuto, posso ovviamente allargare, e così posso poi stringere verso in alto. Ad esempio io voglio zoomare qua, quindi mi sposto da qui, e poi tiro, 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 nel frattempo mi sposto verso destra, ed eccoci qua. Poi ovviamente c'è questo qui, che è scale, questo determina il rapporto che c'è con le note midi, quando vado a suonare. Vi faccio un esempio veloce. Ora io faccio il Do, quando mi sposto sul Re, mi sposto di un semitono, e questo va bene. Qui posso decidere invece con quanto spostarmi tra una nota e l'altra, cioè nel senso posso spostarmi invece di un semitono, magari posso decidere, partiamo da zero, posso fare tipo 10% qui, e dire che adesso quando io sposto tra una nota e l'altra, non ci sarà più un semitono, ma guardate. Proprio per centesimi mi sposto. Se metto 50, vedete, mi sto spostando tra una nota e l'altra, non cambia più a semitono come prima, ad esempio così. Invece se metto 50, la metà, quindi mezzo semitono, ma dici, eh vabbè, ma questo sinceramente non lo utilizzerò. Invece, se tu utilizzi, che ne so, dei campioni di batteria, ad esempio prendiamo un kick, ah, prendiamo magari questo, perfetto, lo vado a mettere qua, decido tutto, tutto questo campione, di inizio e la fine, perfetto, vado a prendere adesso uno snare, vado su, cliccare qui, e lo metto sul secondo. E adesso, suonerà con ovviamente un pitch diverso, perché sto suonando delle note basse. Gli dico, guarda, non cambiare il pitch, anche se io faccio delle note più alte, più basse, non lo fare, cioè tu, se io metto qui zero, su scale, metto zero, guardate che succede. Sempre con lo stesso pitch, anche se io vado a fare altre note, cambio ottava, cambio semitoni, sempre il pitch originale. E' ottimo appunto per il, i campioni di batteria. Ora il kick non l'ho fatto, quindi vado a selezionare quello del kick, per modificare solo quello del kick, e qua gli dico zero. Senza cambiare pitch. Poi, continuando ovviamente c'è il pan, left and right. Poi c'è il volume. Queste sono modifiche che faccio solo a questo campione che ho selezionato. Ripeto che il campione si può selezionare o da qui, o cliccando su zone. Direttamente da qua vado a selezionare poi il layer che voglio modificare. Ora andiamo nella parte più interessante, ovvero i loop. I loop cosa servono? Se io attivo, questo qua praticamente mi permette di riprodurre il campione, ovviamente se tengo premuto più a lungo la nota, continua su tutto il sample. Ovviamente poi posso decidere la fine, come abbiamo fatto prima. Se attivo questo, si attiva praticamente la modalità loop. Si può ovviamente, avete visto che qui c'è quello sempre di prima, lo start, ma ce n'è un altro, che è quello del loop questo. Avete visto che questo è l'inizio, e questa è la fine del loop. però attenzione, perché qui abbiamo due tipi di loop, il loop sustain e il loop release. Possiamo attivare due tipi di loop. Ora io appunto posso decidere dove loopare, in quale parte, magari dico qua, qua l'inizio, l'inizio del loop, e qua magari la fine del loop. Facciamo così. O se no, visto che è troppo lontano, magari qua. Ora che succede praticamente? Io vado a fare una nota, la tengo a lungo, e vedete che appunto, si loop proprio qui, dove appunto ho impostato io. Senza, ovviamente, continua o finisce, dipende come abbiamo impostato la fine. Perché se è la fine, la metto qui, tengo premuto più a lungo la nota, guardate, e si finisce. Ciao! Con il loop, invece, io posso decidere di loopare questa parte. E questo è fantastico, soprattutto per i pad. Quando dobbiamo creare per i pad, o per qualsiasi tipo di lead, perché almeno il suono si ripete. E se è fatto bene il loop, non sembra nemmeno un loop, sembra proprio un suono continuo. Poi posso ovviamente decidere, sempre da qui, loop, l'inizio del loop. Disetteviamo un attimo la modalità snap a desattivo, perché così posso spostarmi finemente. E questa è la fine del loop, vedete? E qua c'è il crossfade, cioè va a creare dei crossfade, vedete qua, dei fade, l'inizio e la fine. Fade in e fade out. Così mi fa una cosa più morbida, quando entra nel loop, lo fa più dolce. Poi c'è il detune, praticamente capita che alcuni campioni, ad esempio qua inizia con un pitch, e qua c'è un altro pitch, c'è magari un leggero, una leggera differenza di centesimi. Ok, io posso qui adesso mettere, per esempio, 20. Guardate adesso inizia così, e poi sul loop cambia. È leggero, però magari metto così al massimo, per farvi capire. Vedete? E poi abbiamo invece, un altro tipo di loop, che è quello della release. Questo è quello del sustain, significa quanto manteniamo più a lungo la nota. Questo vale sia in esecuzione, con la testa di ramidi, ma anche col piano roll. Quindi adesso ho messo questa nota, nel piano roll, un do, faccio play. E va più veloce rispetto a prima, perché ovviamente siamo con un pitch più alto. Non utilizza il warp, perché di solito appunto i campionatori, non hanno la funzione warp, ma è giusto così, perché il pitch più è alto, più veloce deve essere. Quindi posso quindi attivare adesso la release, cliccando qui, o adesso ho un altro loop? In realtà no, perché questa qua, questa prima modalità, è come quella di prima. Significa che adesso io posso decidere anche, vedete che c'è anche adesso la fine? Prima non c'era la fine, perché la fine era praticamente, cioè non c'era fine, visto che qua c'è il loop. Questo invece ci dà, guardate, sempre va il loop, appena però il rilascio, ovviamente c'è una release troppo bassa, magari aumento un attimo la release, così a 13 secondi, utilizzo il sustain, quindi mantengo a lungo la nota, così, e poi la rilascio, guardate. Vedete che va poi fuori dal loop, perché ho attivato la release, quindi io posso decidere, guarda, tu col sustain mantieni mi allungo questo loop, fino a quando io poi rilascio la nota, fino a quando finisce la nota, perché va anche appunto col penerolo. Va il loop sempre, perché c'è sempre la stessa nota, appena io lascio il dito dalla nota, poi c'è però un'altra modalità, e qui abbiamo adesso un altro loop, perché vedete che ne abbiamo un altro qui, inizio e fine, c'è questo, e c'è questo, sono due, quindi abbiamo l'inizio, dove ovviamente il file verrà, dove inizia a riprodurre il campione, poi dove inizia ad attivare il loop, però il loop sustain, e poi c'è invece un altro loop, che è quello della release, quindi già avete capito, che se io faccio così, adesso inizio, quindi inizia da qui, va il loop, appena vi lascio la nota, vedete la release, va il loop qui, quindi questo è il loop della release, e questo è quello del loop, ancora continuo, perché ho messo 13 secondi qua, no, 15 secondi, sì, poi c'è la modalità reverse, sia per primo, che per il secondo, quindi adesso il loop, andrà in reverse, guardate, oppure posso linkare, va a linkare adesso, l'inizio, il punto iniziale, allora, se troviamo il link, questo abbiamo detto che è il punto iniziale, se io faccio link, boom, si sposta dove c'è il loop, se adesso sposto il loop, si sposta pure, il punto iniziale, un'altra cosa importantissima, che non vi ho detto, è questo qua, significa che, questa voce è do diesis, da qui, quindi vado a mettere do diesis, da root, io gli devo dire la nota chiave, di questo vocal, se io prendo un vocal, o un lead, prendiamo tipo un lead, se c'è, vediamo, ad esempio questo, perfetto, questo arpoli lead, f fa diesis, lo prendo, lo trascino qua, come al solito, ora io, ovviamente è come prima, do diesis, quello della voce di prima, se io vado sul piano roll, e qui siamo sul do, però non sta suonando, realmente il do, questo campione, questo non è do, perché dobbiamo adesso, impostare, la chiave originale, e per fare ciò, dobbiamo dire appunto, al sampler, che questo campione, in realtà, è il fa diesis, quindi da qua, vado a mettere fa diesis, qua c'è scritto fa diesis 1, e ci metto fa diesis 1, vediamo se posso anche scriverlo, no, non me lo fa scrivere, però se scrivo fa, no, niente, eccolo qua, ora, questo è do, qui siamo sul do, se ovviamente mi metto sul fa, però andiamo sul fa 1, qua posso scriverlo invece, guardate che è lo stesso, adesso faccio play, sono sul fa diesis, e adesso mi sono realmente sul fa diesis, guardate questo, questo è quello originale, questo è, perché è così scuro? puoi vedere che si disattiva, ah, ho capito, ho capito, poi ci andremo dopo qui, però, se vi capita quindi di importare un fa, ma perché suona così scuro? perché attivate in automatico, non solo il filtro, perché alla fine il filtro non dà probleme, visto che è impostato con, qui con la frequenza 22.000, il problema è questo tasto qui, che permette quindi, di spostare questo filtro, in base alle note, se io metto 0, come prima, questo può fare un key tracking, e da qui vi ho spiegato tutto, ovviamente anche qua c'è il crossfade, anche nella modalità release, e soprattutto c'è anche qua il detune, va bene, poi altre cose aggiuntive, che vi possono assolutamente aiutare, è il menu che c'è, innanzitutto sul titolo, se clicco sul titolo, clicco destro, posso passare nuovamente da sampler, a simpler, però ovviamente poi il simpler mi dirà, guarda che tu sei in modalità multisample, guardate, multisample, quindi non ci fa vedere più il campione, perché lui dice, c'è più di un campione, non ti posso far mostrare due campioni, mi prendi in giro, lo sai che io non posso farlo, anche se è un postato solo un campione, lui comunque entra in quella modalità, poi da qui posso salvare il preset, come di default, compatta, vabbè per compattare, queste sono sciocchezze, eliminare, gruppare, rinominare, copia, taglia, sono funzioni che già abbiamo visto, negli altri video, poi usa dissolvenza, potenza costante, lasciatelo così, e meno per il loop, utilizza appunto un tipo di dissolvenza particolare, ottima, e qui abbiamo visto già il menu che c'è quando si clicca nella barra del titolo, invece c'è un altro menu, quando si clicca ovviamente sul campione, clicco destro, posso fare gestisci i campioni, e entreremo in questa qua modalità, dove posso sostituire il file, ma lo posso anche sostituire da qui in realtà, quindi questo è comodo per un'altra cosa, quando voglio sostituire da qua, dall'arrangement, clicco destro, posso fare mostrare questo, questo è importante, perché dico, ma questo campione da dove viene? Clicco destro, dentro, ah, eccolo, ma questa è la libreria di Ableton, quindi posso appunto già utilizzare qualche libreria di Ableton, che poi in realtà ci sono già i preset pronti del sampler, che non vi ho detto, instruments, sampler, clicco qui su questi triangolini, e queste sono tutte le librerie, quindi sicuramente questo fa parte del, vediamo, polylead, lead, eccolo qua, quindi tutti quei file che abbiamo visto prima, appartengono a questo preset, se io vado a salvare poi da qui, si salva con questo formato, questo formato ovviamente poi ha bisogno dei file, che tu hai utilizzato, e infatti Ableton i file li tiene qui, ovviamente non posso fare mostrare in explorer, perché sono protetti, poi abbiamo sempre in questo menu, un normalizza volumi, quindi ci va a normalizzare i volumi, se questo è più basso, normalizza, boom, a zero, normalizza anche il pan, posso ritagliare il campione, se io decido, guarda, deve finire qui, di questo colore, quello già attivo, quello di questo colore grigio, non viene riprodotto, ma se faccio un po' di taglia clip, questo me lo taglia, poi posso zoomare sulla regione eseguita, sul loop di sostegno, solo su questo, oppure sul loop di rilascio, poi riduci zoom, piccolezze, ma che sicuramente vi potranno servire, poi cliccando qui possiamo zoomare, ma non ci, questo ovviamente non andrà a far suonare il campione più forte, ma solo per avere una visuale più accurata del campione, magari se ho un campione molto molto basso, non voglio aumentare il volume, ma posso vedere più da vicino, questa mi sarebbe piaciuta su Ableton, qui su tutti i campioni, sull'arrangement, poi questo significa entrambi, left e right, vedete che il campione è uno e due, se metto mono, solo così, c'è solo questa visuale, solo left o solo right, poi questo è importantissimo, è la modalità di interpolazione, quindi che modalità usa quando cambio il pitch, adesso è messo normale, potete mettere la migliore interpolazione, però avrà un consumo maggiore sulle risorse, finché sono qui non lo noto tanto, ma quando abbasso di molto questa nota, e cambio, così è ancora chiaro, cioè non va a trasporre alcune frequenze, va a fare anche dei casino, questa però va a modificare tutti i campioni, quindi non lo faccio solo su questo, ma su tutti, e poi c'è il RAM, questo è molto comodo, che permette di riprodurre i vostri campioni, se avete tanti campioni sulla RAM, magari se avete un hard disk non tanto veloce, e avete dei problemi, utilizzando questa modalità RAM, vi permette di risolvere alcuni problemi, ovviamente anche questo lo fa su tutti i campioni, non su quello che abbiamo selezionato, adesso ci spostiamo su pitch, sul pitch ovviamente abbiamo l'oscillatore, possiamo aggiungere un oscillatore modulante, che va quindi a modulare il campione, vado ad attivare questo, e poi ovviamente il volume, cioè quanto volume deve entrare per modulare questo campione, guardate, adesso quindi sto modulando con una sinusoide, perché da qui posso impostare il tipo di forma d'onda, ad esempio la sinusoide, posso magari modificare, o posso rendere un po' più chiaro, guardate, particolare, questo interviene invece vol e vel, cioè praticamente questo volume è meno 27, mettiamolo tipo meno 20, ok, questo resta meno 20, ma se invece questo lo mette 100%, oppure posso decidere quanto voglio io, questo volume adesso si cambierà in base alla velocity, se io faccio una pressione più forte, c'è più modulazione, più volume della modulazione, invece io faccio i piani, vedete? possiamo farlo anche sul piano roll, qua c'è la velocity, poca, poca modulazione, aumenta il volume, come se lo stessi cambiando da qua, poi abbiamo fixed, cioè nel senso che ci va a bloccare la frequenza di modulazione, perché se questo non è attivo, posso modificare l'intonazione ovviamente della frequenza, così con questi step, non sembra più nemmeno il campione originale, qua posso cambiarlo finemente, oppure posso bloccarla per frequenze, sempre 100 Hz suonerà questa modulazione, avrà questa velocità, più ovviamente posso alzare, e ovviamente è 1000, ma posso anche moltiplicare per 10, insomma giocateci qua un pochettino, se volete creare dei suoni particolari e originali, poi abbiamo ovviamente un controllo, perché questa modulazione adesso ha questo comportamento, l'inizio, l'attacco, posso spostare, posso ovviamente abbassare poi il picco, insomma i classici attack, di case, di release, ascoltiamo, così fa una leggera modulazione sul campione, e poi subito smette, ritorno come prima, vedete questo click leggero, se ho aumento questo, lo fa un pochettino, perché ovviamente ho impostato l'envelope sulla modulazione, posso fare anche AM, questo ovviamente va a modulare sull'ampiezza, questo va a modulare sull'ampiezza, e questo sulla frequenza, poi abbiamo il pitch envelope, quindi disattiviamo questo per non fare confusione, adesso io attivo questo, e da qui gli dico, a quanto pitch devi arrivare tu, io ci metto tipo, due ottave per adesso, quindi più 24, quindi da qui inizia, questo è il punto iniziale, lo facciamo iniziare da zero, dal pitch zero, e questo è il pitch più alto, quindi da qui, in questo punto, arriverà più 24, e poi subito scende, avete visto? più 24, posso abbassare il decay, per creare anche questo piccolo transiente, guardate, poi questo qui, soprattutto in questo puntino qua, se io clicco, vedete che ci sono queste cose rosse, in realtà posso cliccare anche da qua, qua c'è un puntino, che se ci clicco, vado a modificare adesso il comportamento, il tipo di curve, per farlo più morbido, più netto, così subito, queste sono cose che posso fare, sia con questo qui, della modulazione fm, del pitch envelope, e anche poi degli altri filtri, che appunto andiamo a vedere, vedete, clicco sul puntino, poi questo qua loop, ve lo faccio vedere dopo, che lo troviamo anche su questo envelope, su questo qui, vedete, c'è ovunque, loop, loop, questa invece è un'altra schermata, per quanto riguarda il pitch, quindi posso ovviamente aggiungere, delle voci, che sono poi leggermente stonate, per creare anche più immagine stereo, questo invece è il traspos generale, quindi su tutti i campioni, non lo fa solo su quello che ho selezionato, invece se io vado qui, modifico, clicco qui, più 9, più 9, qua posso ovviamente cambiare per centesimi, posso spostare il detune, e poi questo qua praticamente, Zn, sono le zone, questo qua, le zone che abbiamo visto prima, questo è comodo quando io magari dico, madonna mia, sbagliato, perché magari ho tanti campioni così, per ogni ottava, e voglio spostare questi due, perché non posso selezionare questi due, e spostarli contemporaneamente, vabbè ora sono due, lo posso fare così velocemente, però quando ho tanti campioni, posso cambiare questi due, e farli suonare dopo. Ok, qui sto suonando questo video, ma io posso spostare, questo qui, in quest'altra ottava, e questa dalla voce, che si trova qui, invece si troverà dopo, quindi faccio più 12, vedete? Non lo so, fa solo confusione questo, magari, se volete, potete provarci, quando avete tanti campioni. Altra cosa, abbiamo ovviamente, la modalità glide, quindi possiamo utilizzare, glide appunto, questa modalità, se non sapete bene cos'è, va a, come posso dire, a strisciare, tra una nota e l'altra, cambiando il pitch, guardate, qua c'è il tempo, quanto tempo passerà, tra una nota e l'altra, questo scivolamento, vedete? Lo faccio vedere qui sul piano roll, metto un'altra nota sopra, così scivola tra questa e questa, vedete? La modalità glide è in mono, quindi lo fa solo con una nota, se invece metto il portamento, lo posso fare con più note, vedete che c'è ancora una nota di sotto, fa tutte e due, potete fare anche tre, e poi andiamo adesso sui filtri, i filtri qui già attivati, come abbiamo visto prima, e abbiamo attivato anche il key tracking, quindi praticamente va a spostare questo filtro, anche in base alle note, se mi trovo una nota più bassa, questo filtro si troverà così, ad esempio, io non lo vedo qui che si sposta, però lo sento, adesso cambio l'ottava di questa voce, vedete che è più chiusa, è la differenza, ovviamente poi abbiamo il classico filtro, togliamo questo, la risonanza, abbiamo ovviamente un tipo di pendenza, vedete 24 o 12, e poi abbiamo diversi tipi di filtri, posso spostarmi anche così, ho questo, poi ho anche la modalità morph, morph si attiva poi un altro parametro, dove è quest'altro parametro, ah eccolo qui sotto, morph, posso quindi switchare, passare tra tutti i tipi di filtri, questo lì posso fare quindi una modulazione, è imposta su notch, guardate, perché lui cambia, ma io posso dire da qui, impostami, passa basso, ogni filtro ovviamente, ogni tipo di filtro, ha un tipo di, ovviamente questo, quello morph, ha solo questo qui, OSR, un tipo di distorsione, che poi possiamo impostare, allora questo qua, il circuito clean, si basa sull'equalizzatore di Ableton, questo qui che abbiamo noi, sempre su Ableton, si basa su questo, che è quello pulito, ovviamente, poi c'è questo qua, che si basa su altri tipi di circuiti, guardate che suonità, più distorto, questo è più pulito, vedete, però se utilizziamo questo tipo di filtro, ad esempio, abbiamo altri tipi di circuiti, se metto questo qua, ad esempio, ho un tipo di circuito, che mi permette di aggiungere distorsione, vedete, anche questo, e poi ovviamente, possiamo attivare anche, uno shaper, ci va praticamente a modulare, a modellare, questo tipo di distorsione, metto questo, soft, ma posso fare anche hard, questo va praticamente, a alimentare questo, e quello a contrarre, vedete la differenza, metto così in basso, quindi questo poi arriva qua, c'è anche la freccetta, ce lo indica, ovviamente abbiamo sempre, un filter envelope, quindi agisce appunto sul filtro, quindi fa praticamente, alza il filtro, e poi di nuovo lo chiude, questo è molto comodo, ad esempio per i lead, mettiamo il lead di prima, attivo il filtro, e questo è l'envelop, l'envelop adesso non sta funzionando, perché gli devo dire l'amount, quanto filtro dare, guardate che bello questo qua, possiamo creare questi classici, la sintesi sottrattiva, togliamo questi due, metto il filtro, metto questo, perché senza filtro, resta sempre chiuso, invece l'envelop mi va ad aprire un pochettino, quindi fa passare un po' di transiente, e poi chiude subito il filtro, posso farlo anche qui, come abbiamo visto prima, cliccando su questo puntino, posso fare una curva più dolce, e già posso mettere anche qui, una leggera distorsione, vi ricordo che il campione originale è questo, ora andiamo qui, ovviamente, in questo altro inviluppo, però questo è quello del volume, quindi qui possiamo adesso fare così, abbassare tutto il volume, adesso facciamo così, se voglio un suono più corto, posso fare un attacco in ritardo, l'inizio, così se faccio poi un attacco più lento, non inizia dal punto zero, ma deve tenere dal punto più alto, questo è il volume generale, non sento più niente, anche questo di default praticamente è meno, no meno, è 35%, significa che adesso va a modificare il volume, in base alla velocity, questo è comodo, qui ad esempio, questa è la velocity, così possiamo creare più naturalezza, soprattutto quando utilizzeremo campioni acustici, dove è importante andare a cambiare anche la velocity, questo qua fa la stessa cosa, solo che sul tempo, sul tempo che significa, metto 100% così vi faccio capire meglio, questa è l'apertura, ok? Sto facendo una cosa così leggera, mettiamoci sempre sulla velocity, così, vedete? Più alzo la velocity, più sarà veloce la lettura, diciamo così, di questo envelope, così subito, se invece lo metto più lento, proprio così al minimo, vedete? Ha più tempo per riprodurre tutto, l'attacco, il decay, poi abbiamo adesso qui sotto il pan, vabbè, il classico pan left and right, è un random pan, quindi fa un pan così, prima a sinistra, poi a destra, e poi c'è il time, questo praticamente va a 100%, va a modificare il tempo di tutti gli inviluppi utilizzati sul sampler, 100%, vedete che è più lungo, è come se tu vai a spostare il decay, ma lo fai non solo su questo, ma su tutti, un esempio, mettiamo il pitch, cambiamo adesso il tempo, così è più lento, anche questo, mettiamolo così, appena faccio così, e poi abbiamo un loop, oh, questo è il loop che abbiamo visto, che c'è anche qua, su tutti gli inviluppi, vedete che c'è anche qui, loop, e hanno le stesse funzioni, loop, beat, sync, trigger, quindi adesso io posso fare il loop, e adesso va il loop, questo envelope, metto più corto, più è corto questo tempo, vedete, questo interviene sul decay, più il decay è corto, anche questo va sempre a mettere il loop, però a beat, vedete qua un sedicesimo, beat non sincronizzato però, poi c'è sync che fa quasi la stessa cosa, però ci mette proprio a sincronizzare col tempo, poi c'è trigger, che a differenza di loop, ad esempio se noi mettiamo nessun tipo di loop, guardate, però dobbiamo attivare il loop da qui, perché il suono deve continuare, facciamo così, guarda io faccio così, tengo premuto la nota e poi subito la lascio, il loop finisce, ma se da qua gli dico, metti trigger, guardate, ancora continua, perché ovviamente ho messo un rilascio così lungo, anzi un, in questo caso un decay lungo, come se ci fosse appunto, un altro loop di release qua, ma in realtà non c'è, però lo posso fare anche con questo tipo di loop, poi anche questo, vedete che la velocity qua agisce sul volume, qua agisce sul tempo, e qua invece è il time che interviene invece sulle note, cioè il tempo, io lo posso spostare una nota, farla più magari con un, farla magari qua in alto, qua ancora più in alto, cambia il tempo, cioè questo, in base ovviamente alle note, e poi abbiamo anche le voci, quindi posso suonare più note contemporaneamente, per dirla così semplice, se io infatti vado a mettere, vado a mettere tipo una nota, una voce, solo una singola nota, metto 6 come prima, posso mettere fino a 32 voci, questo è il trigger che tutte le note inizieranno, inizieranno sempre dal punto iniziale, e da qui diciamo che abbiamo spiegato tutto, ora ci spostiamo su modulation, e qui possiamo andare a modulare tutto quello che abbiamo visto prima, tutti i vari parametri, sempre con l'inviluppo, oppure con tre tipi di LFO, quindi adesso iniziamo a vedere il primo, questo qua è con appunto l'inviluppo, sempre qui le attacchi, sempre qui il loop, sembra la fine, la velocity, eccetera eccetera, e poi qua gli possiamo dire, ah, cosa vuoi modulare? Dai, dimmi cosa vuoi modulare, vuoi modulare il filtro? Facciamo il filtro, la frequenza, e adesso appunto metto il filtro, lo metto magari chiuso, vado su modulation, attivo, e gli dico appunto filter, e qua gli dico quanto vuoi modulare, mettiamo tutto così al massimo, e anche qui funziona come appunto un, dov'è, dove siamo? Ecco qua, come questo, il filter envelope, solo qui invece di fare solo il filtro, posso fare tante altre cose con questo inviluppo, oppure posso fare al contrario, meno, così vado a invertire il filtro, ma posso fare anche col pitch, col time, col pitch, questo è il pitch master, ed è poi posso mettere ovviamente il loop, stessa cosa con il lato B, quindi il lato A e il lato B, poi ovviamente posso attivare l'LFO 1, i classici poi parametri dell'LFO, quindi posso, vedete, cambiare la velocità, posso cambiare il tipo di curva, vedete, quella quadrata, e qua la velocità, questo è il retrigger che inizia sempre dal punto iniziale, l'attacco di queste curve, e poi anche qua possiamo andare a cambiare la velocità, in base però alle note, questo è l'offset per spostare leggermente le curve, facciamo il pitch, così lo sentiamo di più, posso fare stessa cosa con il filtro, ovviamente dobbiamo attivare il filtro però, posso fare anche quello con il volume, posso però controllare anche questo l'Fo, o con, sempre con l'inviluppo, gli dico l'Fo 1, e quale però? Sì, la frequenza, questo qua, 100%, qua tutta la mano, va a modulare e poi finisce, oppure posso fare una cosa fantastica, che questo, il secondo e il terzo, non è come questo, che già vi dà solo volume, filtro, pitch, invece gli altri l'Fo, potete scegliere tutti i parametri che volete voi, io di esempio voglio modulare con quest'altro l'Fo, questo qua, la frequenza, quindi frequenza, questo qua, 100%, sto facendo un casino, vedete poi qua c'è anche la fase, ah ecco non vi ho detto questo, questo se potete sincronizzare, in divisione di 16, un quarto, così va proprio a tempo, poi su midi invece, possiamo dire guarda le note, quando io cambio le note, tu devi cambiare anche il, facciamo che so, il volume, però sono uno scemo, perché gli devo dire la percentuale, tutto al 100, vedete che si sente piano, ora se io ovviamente cambio nota, aumenta anche il volume, quindi appunto le note, potranno modificare anche il volume, potranno modificare anche altre cose, anche che ne so, ah ecco, posso cambiare anche il selettore, del sample, questo è interessante, perché in base a come io mi sposto, mi cambia questo, il punto, prendiamo una voce, così lo capiamo meglio questa cosa, mettendo però, sample offset, vedete dove sono qua, inizia da qui, se io sposto la nota, invece è qua, ma posso fare non solo con le note, ma posso fare con la velocity, questo lo facevo spesso, c'è qua velocity, sempre, sample offset, 100%, guardate adesso, ora perché comunque, questo va a modificare anche la velocity, però se qua abbasso, gli dico, guarda velocity, tu per adesso, non devi abbassare il volume, e posso creare anche dei vocal chops, in questo modo, poi anche il pitch band si fa da qua, quindi posso mettere tipo, più 24, quindi va più 24, quando dovete appunto, cambiare il pitch band dalla vostra tastiera, e anche qui, l'abbiamo visto, ora torniamo su zone, perché abbiamo visto tutto con un sample, vi faccio vedere velocemente, che è possibile appunto importare, qualsiesi, no, qualsiesi no, però come ho detto prima, alcuni del contact, che è appunto n, punto n, ki, legge anche questi formati, se io prendo che ne so, percussioni, io cosa faccio, prendo questo formato, già lui in automatico sta importando, e poi in automatico mi crea anche, il formato, punto adb, che può essere ovviamente importato, trascinato in una traccia midi, dove ci caricherà in automatico il sampler, cliccando sul zone, con tutti i campioni, eccolo qua, splittato per ogni nota, quindi se adesso io faccio, cambio nota, ho un campione diverso, praticamente ci sono 38 campioni qua, quindi questo qua è bello, perché comunque una libreria è già bella pronta, non devi mettere tu a mappare ogni campione, per ogni nota, già sono belle pronte, però se voglio fare io una cosa, prendiamo a prendere, andiamo a alcuni campioni sempre di Ableton, prendiamo questi qua, prendiamo ovviamente il sampler, sampler, eccolo qua, e vado a prendere tutti questi, vado a selezione, e poi vado su zone, qui posso trascinare tutti i miei campioni, e poi ovviamente devo sistemare, devo dire, guarda questo campione, deve suonare solo su tot di note, da questa ottava a quell'altra ottava, e però invece di farlo magari così manualmente, inizialmente impostatevi, perché qua c'è scritto sul campione, do, e quindi qua ci metto do uno, tanto per farlo suonare, preciso, preciso, perfetto, e facciamo la stessa cosa con tutti gli altri campioni, una volta che abbiamo fatto tutta questa cosa, abbiamo impostato il root, possiamo o farlo manualmente, andando qui a spostare dall'inizio, clicca destro qui in qualsiasi punto, e possiamo fare visuale grandi ho messo, perché piccolo, vedete, sì, le scritte sono più grandi, però qua mi viene male a gestire tutto quanto, se invece faccio grande, che poi dall'altro ancora continuo, attenzione, vedete che qua, se passo poi il mouse qui sulla tastiera, posso spostare tutte le note, però il punto iniziale tu lo puoi prendere lo stesso, anche se sei qui, puoi spostarti così, no, attenzione perché ti sposta anche la velocity, perché qui sopra c'è un altro piccolo rettangolo, che ti permette di spostare la velocity, cioè di fare una cosa graduale, piano piano, ad esempio questo è così, tu puoi fare, qui sotto arriva fino a qua, e questo arriva fino a qua, così fai una sorta di crossfade praticamente, e posso fare qui, poi lo posso spostare, posso mapparmi tutta la nota, qui ci sono le note, lo posso fare anche in automatico questa cosa, dici ma come, si può fare davvero in automatico? Sì, sempre clicca destro in qualsiasi punto, e posso innanzitutto eliminare una parte, un layer, ma posso anche fare distribuisci intervalli uniformemente, guardate, sboom, me li fa in automatico, tutti questi layer che ho caricato, me li mappa, ovviamente perché lui fa praticamente tot, tot, tutta la stessa lunghezza, guardate, tutta la stessa lunghezza, però se volete un'ottava, un'ottava, precisi, precisi con le note, come ho detto prima, impostate da qui il giusto root, perché poi c'è la fusione, questa qua, distribuisci intervalli attorno al tasto base, ah, vi ricordo che comunque seleziono tutti i campioni, quindi da qui, poi posso fare shift, seleziono l'ultimo, posso, vedete dove c'è l'asterisco, posso cambiare appunto anche il root, di tutti i campioni selezionati, posso fare delle modifiche multiple, perfetto, ora posso fare distribuisci attorno al tasto base, abbiamo visto che il tasto base di questo è il DO, vediamo, DO però, vedete visto che è DO 6, il tasto base dove c'è la R, questo quello base è fa, io vi consiglio questo, perché almeno vi fa tutto per uso preciso, questo poi è un altro tasto, che permette praticamente di spostare, in base a quello che state riproducendo, se io faccio con la mia tastiera, questo, vedete che mi sposta qui, mi fa vedere qual è quello che sto riproducendo, se mi sposto qui, perché sto modificando questo, ma appena io poi ascolto quest'altro campione, mi sposta qui, questo va praticamente a creare dei crossfade, quella fa lineare, oppure potete fare power, poi ovviamente potete impostare la velocity, quindi magari gli dico, questo è velocity 0, da 1, in un massimo di 127, e quindi io posso cambiare il sample, in base, non più alle note, anzi sì, posso fare sia in base alle note, ma in base anche alla velocity, quindi se tu ti trovi nella velocity 72 ad esempio, devi riprodurre solo questo campione, perché se io posso fare anche qua, ovviamente distribuisci uniformemente, lo posso fare anche qui, quindi questo non me lo riproduce, perché non mi riproduce questo campione, che si trova in questa parte, perché la velocity non raggiunge il 57, se invece lo metto più alto, questo, ora sì, e poi c'è il selettore, questo potete fare anche l'automazione di questo, potete fare appunto mostra automazione, questo è comodo, quando lo faccio sempre distribuisci, così adesso io non vado più con le note, ma vado secondo questo, ora sto riprodurre tutto questo, ora questo, ora questo, questo è bello anche quando dovete suonare dal vivo, vi mappate un controllo della tastiera, e potete spostare questo, e andare a riprodurre un suono diverso, e qui potete mettere ovviamente, potete mutare un attimo, o potete mettere in solo, per ascoltare solo un layer, poi i vari menu che ci sono, qui l'abbiamo visto, distribuisci, si può distribuire in automatico, si può zoomare più da vicino, e poi ci sono qui altre impostazioni, che praticamente permette di ritagliare sempre il campione, di mettere in ordine, vedete in ordine alfabetico, oppure per tasti, se questo lo sposto, perché tenendo premuto posso spostare, questo lo metto poi alla fine, faccio in ordine per tasti, boom, vedete, poi per velocity, posso poi ricaricare i loop, questo non me lo fa qua, perché ripeto, non ho salvato questa libreria, però se prendo su instruments, magari questo, visto che qua c'è un loop, io faccio così, ricarica loop, vedete, ritorno il loop di prima, posso selezionare i layer, con uguale intervallo, e sono ovviamente tutti, hanno lo stesso intervallo, in questo caso, questi non hanno, vedete che non hanno, gli stessi intervalli, perché questo è più grande, questo è più corto, posso non memorizzare anche i quali volumi, posso mostrare nel bravo sul campione, gestire il campione, quello che abbiamo visto prima, rinominare, eliminare, duplicare, vedete, posso duplicare, avete visto che sono tantissime le cose che possiamo fare, le impostazioni, guarda, conoscerle tutte, sì, vabbè, si può fare, cioè io mi posso già memorizzare come funziona, ma se non lo utilizzo sempre questo dispositivo, già domani dimentico tutto, se invece voi mettete sempre a sperimentare, a salvare libreria, a creare da zero, dovete quindi fare tanta pratica, però vi consiglio anche di andare a vedere le varie librerie già pronte, i vari preset del, quelle che troviamo già su Ableton, ad esempio, questa la prendo, e la posso analizzare, questa libreria usa sti quattro layer come, appunto layer, cioè tutti insieme suonano, guardate, poi ovviamente se devo salvare la libreria, devo cliccare qui, clicco qui, e gli do il nome, e abbiamo salvato tutti i campioni, Ah, un altro trucchetto che vi consiglio, è se salvate in una cartella che avete aggiunto, io la trascino qui, esboom, mi crea praticamente il nome del dispositivo che ho dato io, e visto che questa è una libreria protetta, però se voi caricate dei campioni esterni, vi fa la cartella del progetto con il preset del dispositivo, ma anche all'interno delle cartelle con, chiamate sample, dove all'interno sono tutti i campioni che voi avete utilizzato, facciamo un esempio, questa la elimino, prendo dei vocal, sempre quelli là che uso io, prendo il vocal, perfetto, ora vado a salvare, come prima, spoon, gli posso dare un nome tipo test, e adesso, test.adv, che è il formato di questo sampler, e poi c'è un'altra cartella chiamata sample, imported, ecco la voce che ho utilizzato, se devo appunto passare tutto quello che ho fatto con il sampler, ci sono anche i campioni, perché poi dici, ma io non ho questi campioni, invece così ce l'hai, e niente, che dire, ho la voce a pezzi, perché ho fatto due ore di video, adesso lo devo tutto montare, spero che vi sia ovviamente piaciuto, c'erano molte cose da dire, purtroppo le dovevo dire, io non riesco a fare delle cose semplici, dove vi spiego quattro piccole cose, ma voglio spiegarvi ogni singolissima opzione, funzione, parametro, tutto, vi auguro quindi una buona continuazione, ma soprattutto una buona musica, ciao!